buona giornata come sempre aspetto qualche secondo per dare maniera a chi ha piacere di sentire la trasmissione della diretta dall'inizio e come sempre poi sapete che sarà registrato il post quando sarà terminato e per i nuovi amici che ringrazio siete moltissimi che ogni giorno mi chiedete l'amicizia quindi grazie per i nuovi amici segnalo che questa è appunto è la diciottesima puntata di una rubrica che ho voluto chiamare buoni esempi alla fine della trasmissione vi metterò il link per la sezione in cui sono registrate le altre le precedenti 17 puntate che così vi invito a visionare perché sono tutte esperienze italiane che si possono replicare i famosi buoni esempi che beppe grillo dall'inizio diceva dove abbiamo già scoperto l'acqua calda dove dove abbiamo già delle soluzioni beh semplicemente copiamole non c'è nulla da avergognarsi nel copiare buone soluzioni quindi io ho semplicemente raccolto e continuerò a farlo buone soluzioni già messe in pratica che si possono replicare praticamente in tutta italia oggi la puntata è leggerissimamente diversa perché vi darò delle notizie di progetti alcuni industriali e altri che si possono invece proprio realizzare con la partecipazione della cittadinanza il primo che vi volevo di cui di cui vi volevo parlare è la possibilità di fare tessuti quindi per abbigliamento con gli scarti delle arance è un'idea che viene dalla sicilia che è già stata realizzata e poi vi metterò il link all'articolo ma lo trovate facilmente su internet se cercate tessuti da scarti di arance e perché ve ne parlo soprattutto per i nuovi amici per ribadirvi come tutta l'economia industriale può girare può transare da un'economia basata sul petrolio e i suoi derivati a un'economia invece basata sulle altre biomasse molto spesso possono essere scarti di lavorazione che possono creare le stesse sostanze che ora ricaviamo dal petrolio con l'enorme differenza che le sostanze che adesso ricaviamo dal petrolio lacche colle vernici poliesteri per i per i tessuti e gomme solventi detergenti oli sintetici ecco la stragrande maggioranza di questi non sono biodegradabili non sono biodegradabili quindi sono fortemente inquinanti e pericolosi mentre abbiamo abbiamo già la tecnologia esistere già la tecnologia e l'italia è uno dei paesi all'avanguardia per fare le stesse sostanze colle lacche resine tessuti gomme plastiche per farle sempre da materia biomassa si può far si possono fare anche da scarti però biodegradabili biodegradabili vi metterò alla fine il link a un altro video fatto specifico su quello che già in altri paesi sta facendo con il legno con gli scarti del legno con gli scarti del legno si fanno combustibili si fanno plastiche si fanno tutta una serie di materiali che ora come ora si facevano invece con il petrolio con tutti i problemi connessi quindi questo buon esempio delle 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 degli scarti delle arance è la conferma è un'ulteriore conferma di quanto si possa traslare da una produzione industriale sporca inquinante e non biodegradabile a una produzione invece pulita e biodegradabile adesso il passo successivo sarà naturalmente da parte della politica incentivare queste produzioni pulite e invece punire le produzioni sporche perché quello che manca fortissimamente a livello politico nazionale e internazionale è punire le produzioni sporche vi ricordo sempre il dato del fondo monetario internazionale che dice che la filiera delle energie fossili petrolio carbone gas questa filiera crea ogni anno migliaia di miliardi migliaia di miliardi di danni ambientali sanitari che non vengono pagati chiaramente da queste aziende che producono questi danni ma vengono così generati si chiamano infatti esternalità perché vengono buttate fuori all'esterno e poi detto tecnicamente chi se le ciuccia se le ciuccia le paghiamo tutti naturalmente le conseguenze questo manca fortissimamente a livello politico incentivare le produzioni pulite punire progressivamente le produzioni sporche a livello dei consumatori sto cercando di darvi tutte le indicazioni per acquistare pulito sulla filiera del tessile mi manca parzialmente se voi andate nel mio blog personale tracce trovate la sezione consumo critico lì ci sono tutta una serie di indicazioni per consumare eticamente pulitamente e molto spesso anche guadagnarci economicamente sulla filiera dell'abbigliamento vi ho già detto più volte c'è il sito di greenpeace che vi indica i marchi che più si stanno impegnando sul fronte della detossicizzazione perché la seconda filiera più inquinante al mondo è quella tessile dopo la fossile dopo la filiera delle fonti fossili c'era c'era proprio la filiera dell'abbigliamento e quindi è importante sapere quali sono i marchi che si stanno impegnando di più appunto a sostituire i componenti tossici con componenti invece non tossici che fra l'altro ci fa bene anche per la salute perché poi dei residui rimangono proprio nel tessuto e vengono in contatto con la pelle e quindi potete orientare le vostre scelte già adesso sui marchi che più si stanno impegnando in questo senso seguirò quindi anche questa produzione tessile con scarti di arance in questo momento da quello che ho visto via internet c'è una produzione di alta gamma quindi di un noto di un noto stilista italiano però sicuramente è una produzione di alta gamma quindi anche diciamo di di alto prezzo il passaggio successivo invece è fare capi ovviamente normali nel senso che abbiano un prezzo diciamo così accessibile alla maggior parte delle delle tasche bene detto questo passo alla seconda notizia che viene dalla germania la germania in questo caso ha aggiudicato aste per impianti eolici 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 quindi i famosi le famose pale famosi mulini a vento ha giudicato aste per un gigawatt di potenza adesso senza essere diciamo grandi esperti un gigawatt è tanto ma veramente tanto considerate che di fotovoltaico in italia che abbiamo 700 mila impianti 700 700 mila impianti abbiamo in italia abbiamo un complessivo di 18 gigawatt massimi perché quando si parla di di queste potenze si parla di potenza massima erogabile ecco 18 gigawatt è il fotovoltaico italiano che comunque è abbastanza siamo fermi da tre anni siamo praticamente fermi da tre anni è l'eredità degli anni prima del boom quindi capite bene che un'asta che abbia aggiudicato un gigawatt in un colpo solo è tanto la notizia qual è che il 98 per cento delle società che si sono aggiudicate quest'asta e quindi costruiranno questi impianti il 98 per cento sono cooperative di cittadini sono cooperative di cittadini cooperative energetiche di cittadini quindi ancora una volta mi rivolgo agli amici più recenti perché questa è una materia che già ho ampiamente trattato nel passato il futuro sappiate che si dividerà tra il rischio di passare tra da un oligopolio fossile a un oligopolio rinnovabile quindi fino a 5 6 anni fa c'erano pochissimi produttori grandi che facevano energia da carbone gas petrolio il rischio è che questi pochi produttori passino al rinnovabile e comunque è una gran cosa comunque piuttosto che bruciare petrolio gas e carbone un oligopolio rinnovabile diciamo che comunque è estremamente preferibile però abbiamo un'altra strada percorribile che da anni ripeto in cui tutti voi potete inserirvi io mi sono inserito vi do i nominativi sempre nella mia sezione consumo critico i gruppi d'acquisto che è quella di riappropriarci di questi servizi e beni essenziali come l'energia entrando a far parte di queste cooperative cittadine nel mio blog nella sezione libri indispensabili trovate il riassunto di questo libro che si chiama democrazia energetica ve lo faccio vedere un attimo a video vediamo se riesco eccolo qua questo è il mio blog e nella sezione libri indispensabili che ho messo una cinquantina di riassunti di libri questo lo dico sempre per i nuovi amici scusatemi ma siete veramente tanti tutti i giorni per cui lo devo ripetere costantemente trovate una cinquantina di riassunti di libri importantissimi a mio avviso importantissimi e questo è uno di quelli questo è un libro ufficiale scritto su mandato dell'unione europea che racconta le esperienze poi ci ho fatto anche un video di aggiornamento in cui ho aggiunto qualcosa in più ecco vedete questi sono i vari capitoli riassunti che racconta di come i cittadini soprattutto nel nord europa perché la cosa è partita dal belgio della germania la svezia inghilterra irlanda islanda eccetera eccetera ecco come questi cittadini si siano riappropriati della produzione energetica e quindi sono entrati a far parte di cooperative nazionariato popolare ecco vedete questa capitolo 9 io sono socio di rete energie e anche di e nostra sono entrambe cooperative nazionariato popolare che tra l'altro adesso si stanno fondendo per cui da due diventeranno una e chiuderanno il cerchio perché rete energie faceva e farà proprio l'installazione la costruzione di queste centrali rinnovabili in fotovoltaico eolico altre forme e nostra invece fa la parte proprio di distribuzione di elettricità vendita dell'elettricità cioè la potete scegliere al posto del vostro attuale fornitore non faccio nomi i fornitori grossi di energia li conoscete potete passare senza cambiare contatore senza toccare nulla basta un paio di telefonate è proprio come cambiare operatore telefonico si compila un paio di moduli e finisce tutto lì pensano a tutto l'oro potete farlo dalla baldaosta alla sicilia l'energia elettrica è raggiunta in tutta italia quindi lo potete fare tranquillamente non dovete porvi il problema io sto qua io sto la posso farlo potete farlo e dicevo diventate soci in queste cooperative che sono no profit che sono no profit quindi già capite l'enorme differenza avete un il voto capitario voto capitario significa una testa un voto quindi uno vale uno non importa se io mi chiamo berlusconi se io mi chiamo agnelli se io mi chiamo papa papa andreas non importa o se sono il signor rossi una testa un voto non importa quante quote azionari ho per diventare soci bastano 50 euro che con tutto il rispetto per milioni di italiani che sono in fortissima difficoltà io chiaramente capisco che non tutti possono permettersi di diventare soci parecchi altri penso possano possano investire 50 euro una volta sola una volta sola si compra una quota e si associ per tutta la vita voto capitario assemblee dei soci in cui si voterà online perché le prime due sono state fatte sono state fatte ancora con la modalità tradizionale della presenza fisica dalla prossima si potrà votare online quindi potrete votare da casa e quindi capite che voi potete fare la politica energetica come la stanno facendo negli altri paesi la notizia che vi ho appena riportato un gigawatt di eolico andato all'asta in germania il 98 per cento dei vincitori sono cooperative ad azionariato popolare appunto nei paesi del nord ce ne sono migliaia quindi attenzione perché qui abbiamo questa possibilità fantastica di riappropriarci di una grossa fetta del nostro destino e delle nostre necessità perché oggi l'energia elettrica ci serve principalmente per gli elettrodomestici e la luce frigo il forno la lavatrice già molti di oggi hanno le pompe di calore domani pompe di calore per il riscaldamento quindi via le bollette del gas cucine a induzione non più cucine a gas ma cucina induzione quindi elettriche e cucina induzione sono elettriche e soprattutto mobilità voi pensate il fatto di attaccare la spina dell'automobile elettrica dello scooter elettrico della bicicletta elettrica a casa vostra e rifornirvi praticamente gratis o comunque a un costo estremamente più basso estremamente più basso di quello che è il costo del combustibile ordinario e soprattutto con spese di manutenzione molto più basse perché una macchina elettrica un motore elettrico è estremamente più semplice affidabile e duraturo di un motore a scoppio quindi pensate di annullare tutta una serie di spese riscaldamento che passa dal gas gpl dipende da in che zona siete siete serviti dal metano all'elettrico con la pompa di calore elettrico che vi arriva o da fotovoltaico sul tetto o da una cooperativa di cui siete soci di cui siete soci la cucina induzione la bici lo scooter elettrico l'auto elettrica anche qui raccomando fateci un pensiero alla alla bicicletta elettrica allo scooter elettrico che per le mobilità urbane sono dei delle alternative su cui secondo me vale la pena rifletterci mi rendo conto che c'è un enorme problema di sicurezza chiaramente dipende da città a città dipende appunto quanto sicuro è circolare con una bici o con uno scooter elettrico le auto elettriche arriveranno non è più una questione di se è solo una questione di quando già adesso si trovano per esempio auto elettriche usate con 20 30 mila chilometri si trovano a 12 13 mila euro quindi anche questo è un pensiero che si può fare ci sarà un enorme incremento del car sharing elettrico quindi flotte di veicoli già esiste una società in italia tra l'altro creata da italiani con tecnologia totalmente italiana poi fisicamente l'auto la vanno a costruire in cina per ovvi motivi di costo però la tecnologia assolutamente italiana esiste già un car sharing elettrico quindi con vetture elettriche e quindi detto questo la notizia era per parlarvi appunto di questa opportunità di entrare a far parte delle cooperative energetiche lo dico per i nuovi amici quelli vecchi lo sanno i nuovi amici possono trovare diversi miei video in materia e l'indicazione di queste cooperative energetiche italiane nel mio blog tracce nella sezione consumo critico dove ho messo anche le alternative per le banche per le assicurazioni l'assicurazione auto è obbligatoria per i beni alimentari con i gruppi di acquisto e commercio eco solidale eccetera eccetera poi c'era un'altra notizia di cui vi volevo parlare adesso scusate nella foga eccola quasi scusa parte nella foga avevo fatto un po di mi è andato un po solo pensiero ed è una notizia diciamo che raccorda la prima quella che vi ho dato sul sui tessuti che si possono fare con scarti di arance e che si possono fare con scarti di legno c'è una società non mi ricordo se norvegese o finlandese che fa tessuti con gli scarti del legno in generale comunque qualsiasi prodotto quello che tutti noi vogliamo sempre più fortemente è un'etichetta un'etichetta che ci racconti che ci racconta vita morte miracoli del prodotto che sia un prodotto da mangiare che sia un computer che sia un bicchiere che sia un paio di scarpe che sia un vestito qualsiasi cosa tutti noi siamo diventati stiamo diventando fortunatamente sempre più diciamo così attenti a quello che compriamo e vorremmo sapere perlomeno da dove arriva come è stato costruito quanto ha inquinato quanto ha consumato di energia quanto è biodegradabile ora esistono già delle cosiddette etichette ecologiche e sono classificate si chiamano marchi marchi ecologici marchi ecologici tipo 1 tipo 2 e tipo 3 sono già una buona cosa perché mi danno già delle indicazioni su quanto appunto il prodotto è ecologico si chiamano marchi ecologici in particolare le etichette ecologiche di tipo 1 tra cui c'è l'ecolabel che è una delle più famose l'ecolabel sono certificazioni volontarie per scusate etichette volontarie con certificazione esterna o di parte terza quindi sono già una cosa discreta già è già un passo avanti poi ci sono i marchi ecologici di tipo 2 che sono totalmente volontari e non c'è certificazione esterna ma sono i marchi quei marchi in cui c'è scritto semplicemente o riciclabile o compostabile quindi sono abbastanza affidabile perché io mi limito a dire attenzione questo bicchiere qua di plastica è riciclabile o è compostabile quindi è abbastanza facilmente individuabile e poi ci sono i marchi ecologici di tipo 3 i marchi ecologici di tipo di tipo 3 il nome preciso è dichiarazione ambientale di prodotto o in inglese è pd la sigla che devo dire la stessa cosa è veramente a prova di claration in dichiarazione ambientale di prodotto sono anche queste dichiarazioni ecologiche che riportano informazione basati su criteri stabiliti che contengono che contengono una quantificazione degli impatti ambientali che ha generato quel prodotto e anche in questo caso sono certificate sono certificate da organismi terzi accreditati allora già queste cose sono un passo avanti rispetto al passato adesso è uscita una nuova etichetta che si chiama è è label in cui è non sta per elettrico ma sta per ecologico ed è se in questo momento è un qualcosa che è appena partita e sulla quale io personalmente mi sto spendendo per espresso fede distribuzione e verso qualsiasi altro interlocutore con cui ho appunto dialogo perché le adotti perché si adottano su base volontaria ma l'elabel sarebbe un grande passo avanti perché l'elabel da tutta la storia del prodotto da dove è nato la filiera il consumo di energia l'impatto ambientale quindi eventuali inquinamenti che genera il consumo di la produzione di co2 connessa appunto alla produzione del bene e quindi l'elabel sarebbe un vero e proprio diciamo così come come quando comprate una medicina c'è il bugiardino che vi dice tutto quello che questa medicina fa l'elabel vi direbbe tutta la vita del prodotto come è nato e anche come che effetti produce una volta smaltito una volta che ha terminato la sua vita quindi il fine vita quindi ve lo volevo segnalare potete cercarlo su internet ma adesso io vi metterò alla fine della diretta un link di approfondimento e in maniera che ne siate coscienti possiate spingere anche voi perché chiunque di voi sia in contatto con politici può tranquillamente chiedergli scusi signor signor politico conosce l'elabel cosa ne pensa lo lo supporterà lo spingerà l'adozione da parte di tutti i produttori è importante che facciate domande ai politici perché domande precise non diciamo così di filosofiche o di ideologia politica ma domande precise perché molto spesso queste cose non si sanno e io capisco non si può sapere di tutto io l'ho sempre detto sono in commissione industria se mi fate domande su industria commercio e turismo e l'energia fa parte della delle competenze di commissione industria vi posso rispondere con un minimo di competenza se mi fate domande di sanità di agricoltura di affari esteri di affari costituzionali mi mettete in difficoltà non esiste il tutologo e anzi penso che uno dei grossi difetti della politica dei mass media italiani è che pretendono di avere politici tutologi cosa che assolutamente è impossibile è impossibile sapere tutto di tutto ecco niente adesso vi metterò alcune indicazioni di link a cui potete approfondire queste tematiche per i nuovi amici appunto ricordo che le altre puntate le trovate in un'apposita sezione e se pensate che siano cose interessanti io vi invito vi invito a vedere le puntate precedenti perché ci sono quasi un centinaio di buoni esempi di iniziative dal basso dal basso che si possono replicare che hanno dimostrato di funzionare egregiamente quindi se volete vederle e poi magari condividerle con i vostri amici intanto buona domenica a tutti e alla prossima